Duke Dumont, Ocean Drive, questo invece è il nostro .doc. Radio Bari.doc, documenti e redazionali in primo piano su Radio Bari. Torniamo a parlare di cinema, e che cinema, perché oggi c'è un appuntamento imperdibile, in realtà oggi e domani due spettacoli davvero imperdibili, perché amici miei il film del grande Mario Monicelli compie 40 anni proprio quest'anno, ci nel 75, nel lontanissimo 75, oggi viene riproposto sul grande schermo, dove al Multicinema Galleria, per la rassegna Doc & Cult, scusate, e potete vederlo lì, insomma, uno dei film che hanno fatto un po' la storia, uno dei film forse più citati nella storia del cinema italiano e non solo, e quindi davvero un'occasione unica per poterlo rivedere sul grande schermo. Gli appuntamenti sono alle 18.30 e alle 21.15, sia oggi che domani, ovviamente ve lo ricorderò anche domani, al Multicinema Galleria, il prezzo del biglietto è di 8 euro intero, invece di 6 euro per quello ridotto, ovviamente con tutte le schede, poi per universitari, per le diverse fasce d'età, potete trovare tutte le informazioni sul sito del Multicinema Galleria. Allora, 18.30 e 21.15, non avete scuse per andare, tornare a vedere il grandissimo Amici Miei al cinema, per i suoi 40 anni, spegneteli insieme a tutti loro, ovviamente che hanno fatto la storia del nostro cinema, della nostra cinematografia. Noi ci prendiamo un altro po' di pausa, torniamo tra pochissimo con gli appuntamenti della settimana. L'atmosfera è buona, lui non c'è, è andato all'estero e non tornerà. La vanità se l'è mangiato vivo, però è partito con dignità. Ma per inciso, che bel sorriso, adesso che sei in piedi qui davanti a me, ma che ci fai in un posto simile, un angioletto come te. C'è stata un'altra che ti somigliava, l'ho conosciuta tanto tempo fa. Era fantastica dare le carte, era bravissima, me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile, prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fai in un posto simile, un angioletto come te. Facevi meglio restare a casa e non andartene in cerca di guai. Dovresti amare chi ti vuole bene, e non vorrebbe farti piangere mai. Ora è impossibile capire dal primo bacio, il tuo limite estremo qual è. Ma che ci fai in un posto simile, un angioletto come te. Stasera puoi diventare famosa, credimi, la gente per strada si volterà. Vorranno tutti sapere qualcosa, e se è stato difficile camminare sui pezzi di vetro e ritrovarsi qua. Lo sai, da un pezzo si parlava di te, ancora prima che arrivassi in città. E che tuo padre ha un aereo privato, e molte case di proprietà. Scappa da tutto questo, la gente è gelosa, fanno finta di amarti e ti odiano senza un perché. Ma che ci fai in un posto simile, un angioletto come te. Devi essere qualcuno per stare qui stasera, essere pronta a dannarti l'anima. Devi convincerti che non sei l'unica a esistere, devi suonare l'armonica, finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria, è l'ultimo rifugio che c'è. Ruba una mela e finirà in galera, ruba un palazzo e ti faranno rire. C'è solo un passo da fare adesso, il paradiso lo sai bene dov'è. Ma che ci fai in un posto simile, un angioletto come te. Radio Bari punto cult, gli incontri culturali. e musicali in primo piano su Radio Bari. Che bella questa canzone, tra l'altro è la traduzione di Sweetheart Like You di Bob Dylan, un angioletto come te. È l'ultimo, uno dei primi singoli usciti dall'ultimo album, l'ultimo lavoro discografico di Francesco De Gregori. Vabbè, poi concentriamoci invece su quelli che sono gli appuntamenti della settimana. E partiamo dagli appuntamenti di questo lunedì 16 novembre con Clementino, presenta la profizia di Clementino all'auditorium comunale di Amicis di Trigiano, alle ore 10. Dal 16 al 17 novembre, Doc in Calda Galleria presenta Amici Miei al Multicinema Galleria, alle 18 alle 21.15. Ultima replica in assoluto per la Bohème, al Teatro Petruzzelli, alle 20.30. Passiamo agli appuntamenti di martedì 17, dal 17 novembre al 4 dicembre, Orfeo nel Baratro, la segna di poesia, sesta edizione al Portino Sant'Antonio, partirei dalle 19. Alta fedeltà Carlo Chicolai, Valtan Carfab, alle ore 21. Passiamo agli appuntamenti di mercoledì 18 novembre, dal 18 al 25, Puglia Madre Terra, mostra personale di Renato Sciolan, al Palazzo Barone Ferrara, dalle 9.30 alle 13 e dalle 18 alle 20. Presentazione di Ricchi e Barboni, di Foggiolini e Giorgi a Di Massico, alle 18.30. Il Barone Rampante invece andrà in scena all'auditorium Lavallisa, alle ore 21. Ultimo appuntamento per mercoledì, ma anche ultimo appuntamento per oggi in assoluto, con il BLAB Eventi, presenta Radio Libre, al BLAB, alle 21.30. E questo è davvero tutto per questo primo lunedì, per questa prima giornata della settimana di radiobari.cat. Ovviamente io ringrazio per aver curato la regia di Telebari, Federico Semplice, ringrazio per la regia di Radiobari, il nostro Paolino Gentile, vi ricordo che potete anche seguirci sulle nostre pagine Facebook, quella di Radiobari, o anche quella ovviamente di radiobari.cat. Non mi resta che augurarvi buona giornata, darvi appuntamento a domani. Ciao a tutti! Radiobari.cat Gli incontri culturali e musicali